Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno stato nell'Oriente dagli Arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la prima guerra mondiale ebbero un territorio e una patria e quindi anche un territorio e una patria a mio avviso devono avere i palestinesi altrimenti non vi sarà mai pace nel Medio Oriente. E dobbiamo preoccuparci, ne abbiamo ragione di preoccuparcene, perché da un piccolo incendio può derivare un più vasto incendio e dal conflitti che si risvolgono nel Medio Oriente potrebbe domani accendersi quella che è la terza guerra mondiale. Sarebbe la fine dell'umanità.